buongiorno a tutti grazie per essere qui in questa mattinata fredda al festival del classico io sono Simonetta Rò, una giornalista ex RAI adesso in pensione, ma molti di voi immagino mi conoscano perché vi ho tenuto compagnia a lungo Claudio Pagliara è il nostro protagonista di questa mattina e l'autore di questo bellissimo libro uscito veramente da poche settimane Claudio Pagliara è un collega della RAI, ha lavorato anche a Torino quindi ha incominciato anzi la sua carriera a Torino con una borsa di studio alla Gazzetta del Popolo e poi a Stampa Sera e poi la RAI e poi si è spostato con la sua carriera agli esteri, la sua passione per il mondo l'ha portato via da Torino e è stato corrispondente poi della RAI prima da Parigi, poi da Gerusalemme, poi in Cina di cui parla abbondantemente questo libro e infine a New York dove adesso dirige l'ufficio di corrispondenza quindi è soprattutto la sua esperienza, Claudio ha sentito la necessità di parlare di questa sua esperienza in Cina vista dagli occhi anche dell'America dove ora si trova quindi questo essere venuto in America dove fra l'altro è andato molto spesso anche all'inizio del suo lavoro agli esteri come inviato e quindi che ha conosciuto in vari momenti della sua carriera giornalistica negli ultimi 30 anni e la necessità appunto di parlare di questa cosa il libro ci parla, parte da questa che è l'esperienza di un corrispondente di chi è stato lungo in un paese e quindi che si trova a dover raccontare quel mondo e quel paese e va anche oltre a quello che è, c'è questa esigenza in Claudio di raccontarci qualcosa che va oltre a quello che è poi il lavoro del quotidiano come nei propri servizi dove uno racconta ovviamente dei frammenti di quella cronaca immediata e però restano attaccate molte cose che uno sente un po' poi l'esigenza di raccontare e soprattutto di mettere in una visione un po' più ampia, un po' più generale siamo qua nel Festival del Classico dove appunto si parla della tempesta perfetta e non è un po' un caso che siamo qua è veramente perché il tema del Festival del Classico quest'anno è Oriente Occidente quindi la Cina e l'America più di così cioè è la contrapposizione degli ultimi decenni del Novecento che c'è anche adesso insomma, fa parte proprio della contrapposizione mondiale in cui siamo di fronte in questo momento ed è anche molto interessante nel libro questo tema che è democrazia e autocrazia che comunque sono le due forme di governo nate proprio nel mondo classico e che ci portiamo dietro con tutte le declinazioni diverse che sono ovviamente col passare dei millenni ma che in qualche modo ci rimangono proprio del mondo classico quindi un doppio legame Claudio racconta la tempesta perfetta usa e Cina sull'orlo della terza guerra mondiale è ovviamente un tema un po' inquietante ma intanto chiediamo intanto a Claudio perché questo titolo e dove ci vuoi portare? io mi conto, sono solo la, come dire qui per stimolare in Claudio una serie di domande per raccontarci il suo libro cominciamo proprio dal titolo grazie, mi sentite? grazie Simonetta e grazie a tutti voi che a quest'ora abbastanza, come dire, anticipata siete venuti in questo cornice incredibile del Teatro Carignano per ascoltarmi, io sono molto onorato e ringrazio anche il Festival del Classico per aver voluto invitarmi a presentare questa mia prima opera in una cornice così veramente molto, quasi per me quasi mi sento un attimino timido anche se sono abituato alle telecamere ma questa cornice ovviamente include un minimo di timore allora la tempesta perfetta Cina e Stati Uniti sull'oro della terza guerra mondiale sembrerebbe un titolo un po' apocalittico purtroppo viviamo in anni che sono anni davvero molto pericolosi abbiamo visto negli ultimi due anni esplodere già due conflitti che hanno avuto, come dire, molti riflettori quello scatenato dalla Russia contro l'Ucraina e più recentemente l'attacco al di là di ogni immaginazione per violenza di Hamas ad Israele che poi ha condotto appunto all'attuale guerra a Gaza e il Papa aveva parlato in precedenza di una terza guerra mondiale a pezzi quindi non dobbiamo purtroppo stupirci che un libro che parla di quello che è il rischio maggiore attualmente che il mondo corre e che la pace globale corre ovvero la competizione sempre più accanita tra Stati Uniti e Cina possa sfociare effettivamente in una vera e propria terza guerra mondiale e nel libro quindi il titolo è perché purtroppo bisogna essere realisti dobbiamo capire che il mondo vive in una delle fasi dal dopoguerra in poi più critiche più cruciali, più difficili e la consapevolezza ecco un po' lo spirito del libro può, la consapevolezza della pubblica opinione può ovviamente aiutare a far pressione sui governanti affinché si prendano quelle misure necessarie per scongiurare appunto questo spettro che comunque aleggia nel mondo di oggi grazie nel tuo libro tu sottolinei soprattutto che di fatto insomma le due grandi superpotenze cioè quelle che veramente reggono in questo momento l'equilibrio mondiale sono la Cina e gli Stati Uniti con due anche sistemi economici e politici completamente diversi e quindi la sfida è anche da questi punti di vista a me ha colpito molto in questa proprio nelle prime pagine del libro questo discorso che tu fai sia sulla quindi la sfida fra Stati Uniti e Cina non riguarda solo l'aspetto economico che è molto importante perché sono anche due economie poi ne parliamo approfondirei poi questo tema di come stanno andando queste due economie che non è ovviamente secondario in quello che saranno poi quello che succederà nel mondo nei prossimi anni ma anche nei valori perché i valori sono appunto perché ovviamente non bastano le parole ma ci vogliono i fatti concreti dice le democrazie devono dimostrare di essere capaci di migliorarsi riducendo le diseguaglianze diventando più inclusive e prospere nonostante le divisioni e i conflitti che le caratterizzano d'altro canto le autocrazie nonostante l'immagine di efficienza tecnocratica e di unità del gruppo dirigente che proiettano sono attraversate da oscure lotte intestine c'ennava ieri sera Claudio che ne parlavamo che possono sfociare in ogni momento in violenza imponendo decisioni dall'alto in modo paternalistico sono spesso incapaci di coinvolgere mobilitare tutte le risorse umane a disposizione quindi sono due grandi temi di differenze fondamentali sia nella gestione economica del paese sia in quello che poi si dà al proprio paese e che poi può sfociare in qualcosa di diverso quindi c'è proprio questa netta contrapposizione quindi ma quanto è democratica l'America e quanto è autocratica la Cina? Allora sì il libro è una scelta di campo non è un libro equidistante e la mia scelta di campo appunto sin da queste pagine che Simonetta queste righe che Simonetta leggeva è molto chiara io sono profondamente convinto che con tutti i loro limiti le democrazie sono il sistema ancora di governo che maggiormente riesce a migliorarsi perché nessuna democrazia è perfetta e qui vengo alla tua domanda quella americana ha mostrato ovviamente un momento di grave crisi il 6 gennaio del 2021 tutti voi ricorderete quelle immagini dei sostenitori dell'allora presidente Donald Trump assaltare il congresso e farne scempio il tempio della democrazia nelle mani di un manipolo di persone violente è un'immagine che non ci aspettavamo da quello che è considerato il faro della democrazia purtuttavia e qui cerco di rispondere la tua domanda due anni tre anni dopo ci troviamo di fronte a una reazione del sistema democratico americano che innanzitutto ha visto alla fine la violenza non prevalere la vittoria di Joe Biden è stata poi certificata dal Parlamento ma non è finita così la magistratura ha fatto il suo corso e oggi per quei fatti ci sono centinaia forse quasi mille e cinquecento persone che stanno a vari gradi di giudizio stanno rispondendo dei reati che hanno commesso che vanno anche all'omicidio perché sono morte alcune persone in quegli scontri e alcuni sono già state condannate per sedizione per altri gravi reati e poi lo stesso Donald Trump quindi il presidente degli Stati Uniti non è al di sopra della legge per alcune azioni ovviamente vale il grande principio giuridico che nessuno è colpevole fino a una condanna passata in giudicato e questo vale anche ovviamente per Donald Trump però ci sono ben quattro processi penali che lo vedono coinvolto questo perché vi racconto questo perché ecco una democrazia è stata messa è stata sfidata il sistema democratico purtuttavia ha dimostrato di avere all'interno direi gli anticorpi sufficienti a combattere un tentativo di scardinare il sistema democratico cosa succede invece dall'altra parte della barricata mi chiedevi la Cina quanto è autocratica la Cina è se vogliamo proprio usare il termine che Joe Biden di tanto in tanto utilizza è una dittatura e non c'è alcun dubbio su questo Xi Jinping ha accumulato poteri che nella storia dell'umanità raramente sono stati radunati nelle mani di un solo uomo è praticamente come dico nel libro presidente di tutto pensate a una carica importante che si può avere e Xi Jinping è presidente di un comitato che si occupa di quello oltre a essere ovviamente la carica più importante segretario generale del partito comunista cinese perché quella è in Cina la carica più importante molto più importante di essere presidente della repubblica popolare cinese perché dalla guida del partito comunista che ha il monopolio per costituzione del potere in Cina derivano tutti gli altri poteri ma Xi Jinping è andato oltre i suoi predecessori accumulando poteri in tutti i settori da quello militare a quello economico a quello amministrativo dirige praticamente commissioni per ogni branca dell'amministrazione pubblica riducendo di fatto i ministri a direttori generali quindi è assolutamente un uomo al comando e all'ultimo uomo solo al comando all'ultimo congresso del partito comunista tutti ricorderete una immagine che io descrivo come agghiacciante nel libro che è stato la uscita da questo consesso del precedente segretario generale del partito comunista e precedente presidente della Repubblica Popolare Cinese U Jintao stiamo parlando di un uomo che per dieci anni ha retto le redini del paese dieci anni precedenti a quelli di Xi Jinping bene chi non lo ricordasse senza alcuna spiegazione plausibile U Jintao è stato accompagnato fuori dalla sala da degli usceri ora dovete sapere chi so che molti di voi è stato un piacere con alcuni di voi ci siamo incontrati in Cina quindi per loro questo che sto per dire è ridondante però per chi non sapesse una delle cose principali in Cina è non perdere la faccia questo a tutti i livelli anche a livello di famiglia a livello di luogo di lavoro quindi se c'è qualcosa che non va non deve essere detto pubblicamente non si deve dare ad esempio al dipendente l'idea che il datore di lavoro non apprezza il suo lavoro di fronte ad altri colleghi perché al di là di qualunque provvedimento la faccia cioè il rispetto è la cosa veramente essenziale per un cinese ora è chiaro che un atto del genere allontanare il precedente dirigente da una sala del congresso un uomo anziano senza dare alcuna spiegazione plausibile poi si è detto qualche giorno dopo che aveva avuto un malore ma comunque è stato allontanato ed era sulle sue gambe anche avesse avuto un malore dico se accadesse in un qualunque paese normale il leader abbraccerebbe e avrebbe detto compagni tributate un applauso al compagno Ujintao che oggi non si sente bene se ne deve andare ad esempio no se ne è andato nel silenzio assoluto di tutti ora questo dà l'idea del terrore che regna nelle stanze dei bottoni e del potere assoluto più che imperiale che Xi Jinping ha assunto nelle sue mani allontanando Ujintao ha lanciato al di là di tutto un messaggio potente e terrificante a tutta la leadership qualunque dissenso qualunque opinione contraria a ciò che è il mio volere viene punito nel modo più severo possibile che non è solo la prigione ancora più severo è farvi perdere la faccia davanti a tutti è un messaggio veramente terrificante che ci dà secondo me più di tante altre parole più delle violazioni palesi che la Cina compie dei diritti umani in Tibet nello Xinjiang che pure racconto in questo libro più della modo brutale con cui ha represso a Hong Kong ogni fermento democratico più della volontà della Cina di annettere Taiwan che è una democrazia vibrante che è al centro di questo libro poi ne parleremo sicuramente ecco più di tutto ciò vi dà l'immagine di perché è giusto definire la Cina un potere autocratico e pericoloso perché c'è un solo uomo a comando che prende decisioni neanche all'ultimo congresso di fatto cancellato la leadership collettiva che era stata ideata da Deng Xiaoping proprio per evitare le derive di culto della personalità che si erano manifestate durante l'era precedente quella di Mao Zedong quindi è giusto secondo me identificare Xi Jinping come il nuovo Mao con l'aggravante che la Cina di Mao Zedong era una potenza numerosa era pur sempre il paese più popoloso del mondo ma era dal punto di vista economico una praticamente nullità era un paese agricolo oggi abbiamo a che fare con la seconda potenza economica del pianeta una potenza che sta acquisendo e sta riarmando il suo arsenale nucleare a una velocità che non si vedeva dai tempi della guerra fredda e una potenza che sta cercando di avere il dominio delle tecnologie più avanzate tecnologie più avanzate da cui dipende poi la capacità anche di un paese di avere una supremazia non solo economica ma anche militare ecco perché il momento che viviamo è molto rischioso e la pace globale è proprio a rischio da questo conflitto questa competizione tra Stati Uniti e Cina che è una competizione in primo luogo di valori quindi il fatto che eventualmente un potere la Cina soppiantasse l'attuale nella guida del mondo gli Stati Uniti non sarebbe semplicemente un cambio irrilevante nella vita di tutti perché dietro viene un sistema di valori che è antitetico a quello che finora ha governato il mondo fra l'altro dicevamo proprio che ieri sera parlando di questo libro e della situazione in Cina che è stata cancellata anche l'unica presenza femminile in questo pur depauperato gruppo dirigente che non conta già appunto più nulla ma l'unica donna giusto? Sì ecco un'altra immagine per capire la differenza di valori che ci può essere tra una democrazia e un'autocrazia è analizzare la composizione dei gruppi dirigenti dei governi come sapete Joe Biden ha fatto un grande sforzo per varare un'amministrazione democratica più possibile rappresentativa dei diversi volti delle diverse facce dei diversi colori del paese e naturalmente primo tra tutti anche più rappresentativa più equilibrata nel rispetto di una parità tra uomini e donne ecco non so quanti di voi sappiano quante sono le donne nella prima e nella seconda linea di comando della Repubblica Popolare Cinese la prima linea di comando è lo standing committee che è composto da sette persone dall'inizio dalla nascita della Repubblica Popolare 1949 è sempre stato solo maschile questi sette diciamo più potenti uomini insieme al presidente sono solo stati maschili ma dietro lo standing committee c'è un'altra linea di comando del comitato centrale ristretto che comprende circa e della di tutti i ministeri che comprende un centinaio di persone bene fino all'ultimo congresso c'era una sola donna era un vice primo ministro che per raggiunti i limiti di età è andata in pensione ed è stata sostituita da un uomo ora attualmente la prima e la seconda linea di comando della Cina un paese da un miliardo e mezzo di persone il paese dove Mao aveva inventato l'espressione l'altra metà del cielo è di fatto è governata solo da uomini e questo secondo me la dice lunga su il tipo di regime e anche il tipo di sensibilità che può avere quel regime di fronte a una serie di tematiche proprio perché non è rappresentativo della realtà del paese grazie appunto un altro aspetto di cui tu parli molto e che mi ha colpita leggendo questo libro è proprio anche invece parlavamo delle economie cioè tu racconti soprattutto all'inizio del libro del tuo ritorno nel passaggio è stato 5 anni in Cina e poi è arrivato a New York dove tuttora è e quindi in questo passaggio fra l'altro alla vigilia del covid quindi insomma in un momento e ti colpiva la per esempio i mezzi pubblici la difficoltà della quanto sono vecchi quanto sono diventati obsoleti cioè per molti aspetti leggendo questo libro ci ricordi che l'America gli USA sono stati la prima potenza mondiale del novecento cioè nel nuovo millennio è difficile non lo sono più non è più questa cosa qua e c'è una difficoltà a inseguire appunto l'innovamento scusate l'innovazione a trovare appunto mezzi adatti a questi tempi cioè come se si fosse un po' fermata e l'economia anche è rallentata la difficoltà e ci sono altri problemi grossi negli Stati Uniti e d'altra parte invece in Cina c'è stata questa spinta pazzesca proprio all'inizio del nuovo millennio dal punto di vista economico e dal punto di vista per esempio parlavamo dei trasporti i trasporti in Cina hanno costruito questa che però è come se si fosse anche questa a un certo punto adesso fermata però appunto queste due mondi così in qualche modo l'America li usa un po' un po' delabre quasi però dove la democrazia in qualche modo riesce a rilanciare e a rimmaginare cose nuove e a ricostruire con difficoltà perché sono difficoltà di tutto il mondo occidentale mentre la Cina ha fatto questo slancio ma forse anche proprio la sua politica adesso l'ha fermato e quindi viene appunto da pensare che nonostante la difficoltà la lentezza la difficoltà di recupero appunto gli anticorpi non solo nella democrazia ma forse anche nell'economia verranno fuori anche nella capacità di magari invece poi abbracciare delle politiche pensavo in questi giorni c'è la conferenza sul clima insomma di saper gestire questa nuova parte e invece la Cina è un po' cristallizzata in questa sua idea che forse non riesce ad andare avanti Claudio mi sono fatta quest'idea leggendo il libro è così? diciamo sei entrato un attimo in un aspetto che dà anche un po' la cifra del mio libro cioè il mio non è un libro scritto da un politologo ovviamente ho letto parecchio in questi anni ho cercato di studiare parecchi i miei paesi dove sono stato ma non sono un accademico sono un giornalista un cronista e il libro questo libro è esattamente il libro di un cronista non ha la pretesa di essere il libro di un accademico anche se naturalmente ci sono pagine di storia ci sono pagine per far capire la realtà attuale bisogna sempre dare uno sguardo indietro però parte sempre da esperienze un po' come le ho raccontate nella mia professione perché insomma è un libro frutto dei miei ultimi dieci anni di attività come corrispondente Rai prima a Pechino e poi a New York e dunque racconto delle impressioni spesso e sempre in prima persona perché è un libro che ha la pretesa di essere anche un libro alla portata di tutti cioè non solamente per accademici o per studenti che studiano discipline di politica internazionale e allora la prima impressione dopo cinque anni in Cina arrivo a New York e prendo come tutti i new yorkesi la metropolitana e scopro qualcosa di molto diverso da quello che avevo vissuto in Cina cioè che la metropolitana così come i treni tante infrastrutture negli Stati Uniti sono vecchie di 100 120 anni e mostrano tutta l'età che hanno la Cina è così anche come l'Asia peraltro che è come sapete il continente che ha avuto i tassi più alti di sviluppo negli ultimi 40 anni la Cina in particolare ha delle infrastrutture modello non ci sono probabilmente si trovano in Giappone in Corea del Sud però in Occidente il livello di efficienza delle infrastrutture cinesi è senza paragoni treni veloci che ti conducono da Pechino a Shanghai o anche fino al Tibet ad altezze incredibili metropolitane modernissime con barriere di sicurezza e una sicurezza anche molto molto accentuata ingressi addirittura adesso con il riconoscimento facciale per i pagamenti praticamente incontanti nel 2016 in pochi mesi sono spariti sostituiti dal codice QR dei telefonini cioè è un grande balzo nella modernità che la Cina ha fatto negli ultimi dieci anni venendo a New York scopro che al contrario di quando da Roma andavo come inviato negli anni 90 in America e mi sembrava allora un grande balzo nel futuro oggi venendo in America da l'Asia ho la sensazione esattamente opposta che in realtà l'Asia in particolare la Cina ha corso molto più velocemente ha superato dal punto di vista dell'efficienza di alcune strutture infrastrutture degli Stati Uniti e questo naturalmente è una prima risposta alla domanda geopolitica che tutti quanti si interrogano il ventunesimo secolo sarà il secolo dell'Asia sarà il secolo cinese l'America è stata sicuramente il paese che ha dominato il ventesimo dominerà ancora il ventunesimo e quindi la domanda sembrerebbe ovvia scontata e si hanno fatto un tale salto tecnologico almeno apparente in queste infrastrutture che è probabile che diventerà un paese guida la Cina e supererà c'è sempre questa idea del sorpasso dal punto di vista del prodotto interno lordo della Cina nei confronti degli Stati Uniti sorpasso che però per ora diciamo non si è ancora verificato e viene ciclicamente rinviato nel futuro però c'è un altro aspetto che mi colpisce sempre da cronista perché è un po' la cifra di questo libro che racconto storie in prima persona parlo con la gente alcune persone alcune persone competenti ma anche gente comune amici che incontro sia in Cina che mi aprono delle finestre che cerco di aprire anche ai lettori e l'altra impressione che mi colpisce arrivando sempre a New York dopo 5 anni di Cina è una piccola manifestazione che si svolge davanti alla Trump Tower che viene di fatto tollerata dalla polizia e si scioglie senza che non accada nessun provvedimento restrittivo anche se era una manifestazione non autorizzata e lì immediatamente mi stupisco oggi non mi stupirei più perché so che negli Stati Uniti le manifestazioni sono all'ordine del giorno mi stupisco perché venivo da 5 anni di Cina immaginare l'equivalente della Trump Tower di Manhattan in Cina è Piazza Tiananmen immaginare che ci possa essere oggi una piccola manifestazione ma anche la manifestazione di un singolo a Piazza Tiananmen senza che la polizia intervenga istantaneamente per reprimere in modo più duro e immediato una cosa del genere è semplicemente inimmaginabile ed ecco allora lì che la domanda che un po' attraversa tutto quanto questo mio volume e che ci porta poi nell'ultimo capitolo a Taiwan perché lì è l'epicentro diciamo è l'occhio del ciclone è vero che la Cina ha delle infrastrutture modello ma per potersi ereggere o eriggere scusatemi ha guida del mondo del futuro e probabilmente è necessario che rispetti dei diritti umani che conceda ai suoi cittadini libertà di opinione che abbia una stampa libera come ce l'hanno come l'abbiamo noi con tutti i nostri limiti ma perfezionabili in occidente negli Stati Uniti in Europa in Italia e dunque ecco che la domanda sulla guida del ventunesimo secolo torna a quella domanda iniziale di cui parlavo dello scontro tra due superpotenze che è anche uno scontro di valori vogliamo davvero che la guida del mondo sia nelle mani di un paese che viola i diritti umani oppure è necessario inviare chiari segnali che i nostri valori siamo come dire disposti a difenderli perché non vogliamo vivere in un sistema diverso da quello che viviamo vogliamo migliorarlo certamente ma non vogliamo rinunciare a nostra libertà di opinione a queste nostre economie liberali che si aprono e danno reciprocamente possibilità di sviluppo e non vogliamo che le decisioni siano calate paternalisticamente dall'alto senza che i cittadini possono a un certo punto dire se queste decisioni sono corrette o sbagliate ecco tutto ciò invece accade puntualmente in Cina l'ultimo esempio clamoroso diciamo di decisioni calate dall'alto su cui i cittadini non hanno avuto alcun diritto o quella possibilità di esprimersi è questa politica del covid zero che ha condotto a degli errori clamorosi da parte della dirigenza cinese perché poi alla fine sono stati costretti a riaprire anche loro solo con un anno e più di ritardo e dopo aver imposto davvero delle restrizioni draconiane alla popolazione che ha molto indeburito alla fine il paese e lì è stata una classica decisione imposta dall'alto che non poteva essere discussa che non poteva essere criticata i pochi scienziati che hanno cercato cinesi che hanno cercato di dire che forse non era più il caso di mantenere quelle restrizioni sono stati subito puniti ecco il sistema autocratico implica anche questo che vengono prese decisioni da un solo uomo da un piccolo numero di uomini e i cittadini non hanno alcun potere per cambiare il corso delle cose il potere a dire è vero i cinesi a un certo punto se lo sono presi perché come dice un proverbio cinese l'imperatore ha il mandato del cielo ma se il cielo poi dà segnali chiari che i raccolti non sono buoni il popolo ha diritto di ribellarsi anche all'imperatore e in effetti i cinesi sono ribellati all'imperatore hanno cominciato a manifestare con i foglietti bianchi simbolo della censura per dire che troppo e troppo tutto il mondo si era già aperto era rimasta solo la Cina a conservare restrizioni assurde e dragoniane e a quel punto il regime ha dovuto aprire un po' precipitosamente a quel punto la Cina perché non aveva neanche preparato la popolazione più anziana vaccinandola solo il 40% della popolazione sopra i 65 anni era vaccinata e quindi questo ha causato probabilmente un numero di morti superiore a quello che è avvenuto in Occidente anche se anche lì l'opacità del sistema fa sì che i numeri reali non ci siano perché sono la Cina ha smesso di contarli e di comunicarli sui decessi da covid prima di parlare di Taiwan che vorrei usarla come chiusura insomma visto che è anche l'ultimo capitolo del libro ci sono anche appunto giustamente tu dici questo è un racconto di un cronista vi racconto anche emozioni quelle emozioni anche tutta una serie di curiosità che sono rimaste un po' fuori poi dalla mia dalla tua cronaca poi televisiva che come sappiamo noi che facciamo televisione deve essere molto asciutta cioè bisogna arrivare veramente al nucleo delle cose perché i minuti sono sempre pochi e quindi e poter raccontare anche i secondi esatto un minuto e dieci tutto quindi il passato il presente il futuro ci sono delle pagine molto interessanti insomma al di là poi di quelle proprio di cose che ti sono rimaste a cui sei rimasto legato di queste due esperienze così diverse e che forse proprio il fatto che siano così diverse ti ha permesso di anche di rivederle con degli occhi anche di diciamo a rinnovare un po' la curiosità del cronista rispetto a quello che hai visto e che hai vissuto e mi piacerebbe che raccontassi appunto al pubblico due momenti che ti sono rimasti così forti impressionati di questi due mondi dell'America degli USA e della Cina sì c'è un capitolo in cui parlo del culto della personalità e inizio dal sistema in Cina e inizio dal sistema educativo perché uno dei primi racconti di una mia amica cinese che incontro in una sala del tè mi racconta che il mattino era stata convocata dal preside aveva una figlia all'epoca di dieci anni e gli chiedo ma perché tua figlia mi ha sempre detto che è una studentessa modello cosa è successo il problema è che il preside mi ha chiesto se sapevo che mia figlia aveva un diario con Lucchetto e io gli ho detto sì gliel'ho regalato io per il suo compleanno è un diario è un lucchettino e il preside ha detto beh noi ci siamo insospettiti abbiamo sequestrato il diario l'abbiamo aperto e abbiamo letto che sua figlia non è contenta della sua insegnante questo è un problema lei deve fare attenzione perché l'insegnamento l'insegnante è l'autorità costituita non si può contestarla a dieci anni io sono trasecolato letteralmente perché ho immaginato cosa potrebbe succedere se in una scuola italiana un genitore venga convocato dal preside perché ha deciso di leggere forzando il lucchetto il diario di suo figlio insomma ecco vedo che tutti ridete quindi avete avuto la stessa reazione che ho avuto io però poi chiaramente da giornalista mi sono informato e ho cercato di indagare scandagliare questo sistema educativo cinese ho scoperto che effettivamente è del tutto normale cioè nelle scuole cinesi non è che si premia l'alunno che alza più in alto la mano o che cerca di mettersi in mostra con le risposte più intelligenti o magari anche come dicono in America out of the box cioè più creative no si premia magari come una stella rossa come racconta nel libro un'altra un'altra scrittrice che ha mandato i suoi figli sia in America che in Cina e quindi ha potuto cogliere le differenze tra i due sistemi educativi beh si premia l'alunno perché è stato per 12 ore perché in una classe di 100 alunni perché questo è anche il sistema educativo in Cina seduto al banco in ascolto paziente di ciò che diceva l'insegnante senza mai interrompere senza mai fare domande senza mai dare luogo a nessun tipo di reazione ecco è un sistema che chiaramente sin dall'inizio educa come dire al rispetto dell'autorità che un pochino di più in Italia ci sarebbe bene devo dire perché da quello che ascolto dai miei amici insegnanti qui si è passato il limite però adesso a parte degli scherzi negli Stati Uniti il sistema educativo naturalmente è proprio agli antipodi si premia chi si mette in mostra chi fa il compito più più in gamba chi come in un aneddoto di questo libro scrivo questa mamma che è una scrittrice cinese con doppia nazionalità che porta il figlio a scuola in Cina dopo averlo dopo aver iniziato negli Stati Uniti racconta che appunto in Cina un bambino quando deve disegnare la pioggia disegna la pioggia che verticalmente cade dal cielo alla terra dice è vero che in realtà la pioggia può essere sospinta dal vento può esserci un ciclone potrebbe cadere verticale ma nessun bambino in Cina si sognerebbe di disegnare la pioggia in diagonale perché molto probabilmente quel disegno verrebbe appeso tra quelli sbagliati cioè ci deve essere una direzione molto chiara Sijipin lo ha detto anche chiaramente sapete che è stato introdotto da qualche anno nelle scuole di ogni ordine e grado in Cina lo studio del pensiero di Sijipin anche qui il culto della personalità è molto evidente e nello spiegare il perché gli studenti anche di prima elementare dovevano studiare il pensiero di Sijipin Sijipin ha detto ha citato un proverbio cinese che una camicia va abbottonata bene dal primo bottone perché se si sbaglia il primo bottone effettivamente si arriva alla fine come qualcuno saprà e gli sarà successo che poi deve ricominciare da capo ecco anche lì ci dà l'idea della scuola intesa come cinghia di trasmissione e di educazione al cittadino futuro che sostanzialmente deve essere molto rispettoso del potere costituito un episodio invece degli Stati Uniti che mi ha molto colpito uno l'ho già raccontato però ecco certamente mi ha molto colpito venendo soprattutto dalla Cina il grande accesso che un giornalista a cui parlo proprio della mia professione ha alle fonti uno può aspirare ad avere l'intervista anche più importante della sua carriera magari ecco il presidente Biden concede molto raramente ma a parte proprio il vertice uno può veramente cercare di avere un'intervista anche molto importante scrivendo una email all'assistente è certo di avere una risposta a volte è negativa ma il più delle volte è positiva entro poche ore questa estrema apertura e questo estremo rispetto che c'è della professione giornalistica negli Stati Uniti che forse non si riscontra in Italia mi ha molto colpito favorevolmente dall'idea di una democrazia vera che rispetta il lavoro umile che noi facciamo che è quello di cercare di aprire delle finestre per far capire come funzionano varie cose il fatto che la nostra professione sia così rispettata mi ha molto colpito favorevolmente chiaramente è inutile dirvi che in Cina è quasi impossibile quando io sono arrivato nel 2014 era abbastanza facile avere accesso al mondo accademico e a quello economico quello politico è assolutamente al di là di ogni possibilità di contatto diretto di un giornalista ma nel corso dei cinque anni i miei cinesi ho visto restringersi la possibilità di contattare anche il mondo accademico e quello economico perché il messaggio che è arrivato dall'alto era molto chiaro potete avere guai e sicuramente non avrete nessun beneficio se parlate con un giornalista straniero e quindi questo ha anche il non rispetto di una professione della libertà di un giornalista di ascoltare delle fonti da luogo vi fa capire l'estrema differenza dei valori tra i due sistemi abbiamo ancora qualche minuto prima di cedere il passo e io volevo dedicarvi proprio a quello che c'è poi nel sottotitolo no? Usecino sull'ora terza governamentale ma qui si parla molto anche di Taiwan perché è così importante Taiwan a cui dedichi l'ultimo capitolo proprio come punto nodale di questa di questa contrapposizione e di baluardo da difendere nell'ottica appunto di cui vinca la democrazia sì Taiwan è sicuramente l'epicentro di questo di questa tempesta perfetta è il luogo dove potrebbe potrebbero Cina e Stati Uniti trovarsi a combattere sullo stesso terreno io sono stato per molte volte a Taiwan e l'ultima volta appunto a luglio proprio per scrivere questo capitolo che ho intitolato polemicamente nei confronti di chi considera che non sia un vero paese l'isola che c'è perché questa isola poco più grande della Sicilia è una democrazia vibrante dove quando sono stato a luglio si discuteva degli stessi temi che sono sulle prime pagine dei giornali italiani europei americani ad esempio era esploso il movimento Me Too e c'era una serie di denunce di ragazze e signore che ricordavano e accusavano di essere state molestate da superiori getarchici cose che conosciamo bene di cui si dibatte nelle nostre società già da anni ma è soprattutto una democrazia dove ci sono giovani blogger che aprono loro finestre sulle eccellenze di questa isola e quindi questa atmosfera davvero di un'isola dove la democrazia è stata una conquista perché non è stato così sempre l'isola è stata governata col pugno di ferro da Chiang Kai-shek per tutta la sua vita e l'isola anche che ha conosciuto la più lunga legge marziale della storia del pianeta 37 anni di legge marziale ma poi all'inizio degli anni 90 si è trasformata senza spargimento di sangue in una democrazia è proprio perché la popolazione di questa isola ricorda bene che cosa è stato vivere sotto una dittatura oggi difende con le unghie e con i denti e la sua libertà e il suo status è come dire quello più incerto di qualunque paese al mondo probabilmente perché di fatto è da 75 anni una isola indipendente che ha un sistema di governo completamente separato da quello della Repubblica Popolare Cinese ma nei cromosomi del Partito Comunista Cinese sin dalla fondazione cento anni fa c'è la riunificazione con Taiwan considerata una provincia ribelle del resto Taiwan ha un'importanza strategica immensa nell'area di mare che controlla il sud mare meridionale della Cina transitano circa il 30-35% delle merci globali di ciò che indossiamo che portiamo nella borsetta o nelle cose transitano per quell'area di mare già questo basterebbe capirne l'importanza ma è anche il luogo dove vengono prodotti i microchip più avanzati quelli che servono a far funzionare i telefonini a 5G che servono all'auto intelligente di oggi e del futuro e che servono anche all'industria militare e a muovere l'intelligenza artificiale basti pensare che se ci fosse un blocco navale di Taiwan non dico una guerra i calcoli degli esperti dicono che l'onda d'urto economica che si propagherebbe nel pianeta sarebbe tre volte più grande di quella del Covid e penso di aver detto tutto quest'isola è al centro di uno scontro geopolitico tra Stati Uniti e Cina gli Stati Uniti come sappiamo riconoscono il governo di Pechino e per questo dal 79 hanno rotto i rapporti diplomatici con Taiwan perché questo impone Pechino o l'uno o l'altro One China Policy ne avrete sentito parlare ma c'è un trattato che fa sì che gli Stati Uniti possano aiutare economicamente e militarmente Taiwan anche se non riconoscono ufficialmente quel governo più o meno la stessa cosa fanno tutti gli altri paesi compresi i paesi europei con l'eccezione se vogliamo parlare proprio tutto della città del Vaticano della Santa Sede che invece la Santa Sede ha ancora relazioni diplomatiche con Taiwan e ovviamente non le ha con Pechino perché o l'uno o l'altro ma a parte questo lì si gioca una partita importantissima economica e strategica perché chi se la Cina riuscisse e non fa mistero Xi Jinping che considera questo il grande obiettivo che deve conseguire durante la sua presidenza se riuscisse a ottenere Taiwan con le buone cosa ormai quasi impossibile perché i taiwanesi non vogliono sentir parlare di riunificazione pacifica dal momento che hanno visto ciò che accade che è caduto a Hong Kong ad esempio o con le cattive come si dice ovvero con la forza militare cosa a cui Pechino si sta preparando come sapete con esercitazioni continue con una pressione militare che cresce su Taiwan gli Stati Uniti molto probabilmente dovrebbero intervenire a difesa di Taiwan ed ecco qui che si spiega a conclusione di questa conferenza il titolo che ho dato al mio libro La tempesta perfetta ha il suo occhio del ciclone ed è questa isola bellissima dove tra l'altro si mangia benissimo perché ha la più grande varietà di cibo che potete immaginare che è frutto della sua storia molto complessa c'è un po' di cibo aborigeno che sono gli abitanti c'è molto cibo cinese ma da tutte le regioni cinesi perché le truppe di Chiang Kai-shek che venivano da ogni parte della Cina si sono ritirate a Taiwan nel 49 dopo aver perso la guerra civile con Mao e c'è chiaramente tutto ciò che è successo dopo ci sono stati 50 anni di dominazione giapponese quindi il Giappone è molto più vicino a Taiwan di quando non lo sia la Cina anche perché come sistema democratico ovviamente è più affine a Taiwan tutto ciò si mischia a tavola con una cucina davvero con una varietà di cibi che io non ho trovato da nessun'altra parte è un po' come se in un'unica regione italiana ci fossero le cucine di tutte le varie province italiane concentrate si mangia benissimo gli italiani hanno la stessa passione per il cibo che abbiamo noi italiani è una Cina molto affine a noi che se avete voglia di fare viaggi un po' fuori dalle medie calassiche vi invito a visitare non c'è neanche bisogno di visto grazie grazie a tutti grazie in effetti anche io leggendo questo libro avevo voglia di andare a visitare Taiwan confesso che l'effetto di questo libro che mi ha stimolato mi ha incuriosito e detto tante cose ma devo dire non solo per il cibo ma veramente mi ha incuriosito il paese noi cediamo il passo ai prossimi relatori vi ringraziamo di essere stati con noi speriamo di avervi incuriosito ovviamente tutto quello che Claudio non vi ha raccontato e che è tanto lo trovate ovviamente nel libro cediamo il passo al prossimo incontro mi hanno detto di annunciarlo che cos'hanno in comune Gerusalemme e Atene con il cardinale Gianfranco Ravaggio il latinista Ivano Dionigi e moderato dalla collega giornalista Paola Saluzzi vi ringraziamo tantissimo e buon festival grazie 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 a tutti grazie a tutti